Il paradiso delle signore. Trama puntate. Lunedì 6 dicembre 2021. Irene è molto abbattuta all'idea dell'imminente trasferimento di Stefania. La ragazza crede di non poter più stare sul posto di lavoro senza la sua amica e così non si presenta per qualche giorno. Gloria prova a incoraggiarla e le spiega che questo non è il modo giusto di affrontare le cose. Con il passare dei giorni Irene si rende conto di aver avuto una reazione esagerata e prende nuovamente in mano la sua vita. La giovane però va a casa Colombo per avere un chiarimento con Stefania. Flora diventa una stilista del paradiso a tempo indeterminato dopo il successo discosso con la sua collezione. La gentile è felicissima per questo riconoscimento. Flora però pensa sempre alla scomparsa del padre su cui non è ancora riuscita a fare luce e la cosa non passa inosservata agli occhi di Adelaide e Umberto. Armando decide di parlare con Salvatore per avere un chiarimento con lui e per cercare di risolvere la situazione a casa. Davanti al ragazzo però non riesce ad ammettere tutta la verità.